salve in questo video vi parleremo della nostra piccola odissea nel cercare girare un corto che è stato pubblicato insieme a questo video fa nel canale youtube nel 4 più se ancora non avete visto il corte in questione vi consigliamo di andare subito a recuperarlo cliccando il link qui da qualche parte e poi tornare a questo video quindi l'avventura è iniziata diverso tempo fa in realtà come forse molti di voi sapranno su al 4 più abbiamo da sempre cercato di improvvisarci registi e attori girando scenette e brevi filmati che andassero a completare i nostri video con scarsissimi risultati il più delle volte ma non ci siamo mai persi d'animo ed è questo quello che conta credo non lo so quello che abbiamo fatto a questo giro invece è stato proprio girare un corto dedicato a se stesso senti che filosofia filosofia quindi scusatemi ma adesso indosserò il mio cappello da regista perché mi chiedete ecco il perché del cappello ma torniamo alla storia abbiamo deciso che doveva essere semplice ma con un plot twist comico sul finale perché noi siamo simpatici facciamo ridere la nostra fortuna come avete visto nel video del trabucco delle hot wheels è che facciamo parte di un'associazione medievale chiamata masnalabon del monti che ha accesso a diversi abiti e attrezzature del settore quindi l'ambientazione scelta ovviamente è il fantasy per la storia abbiamo voluto scrivere una classicissima trama del gruppo di eroi che salva una fanciulla da un brutto enorme e cattivissimo con qualche combattimento nel mezzo e come dicevo il risvolto comicissimo finale in cui si scopre che in realtà sono dei nerdoni puzzolenti intorno al tavolo di dnd basta dnd ci sono 3000 giochi di ruolo perché sempre dnd ok scusate dalla regia mi dicono gioco di ruolo generico e insomma questi nerdoni puzzolenti vengono interrotti dalla bellissima mamma sul più bello con le solite domande come sta andando e chi ha vinto e bla 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 va a bando alle ciance e vediamo come cazzo abbiamo fatto prima di tutto abbiamo fatto dei test per vedere se eravamo in grado di girare effettivamente delle scene di combattimento da inserire nel corto come sta andando? bene grazie per la domanda oh no! chiaramente non eravamo in grado ma grazie alla nostra arroganza e presunzione che manca un pavone ce ne siamo fottuti altamente e siamo andati avanti lo stesso scusate l'interruzione ma sono qui per ricordarvi di mettere mi piace e iscrivervi al canale ma soprattutto commentate, commentate questi bellissimi short movie così ne faremo degli altri e ci darete nuove idee dopo i vari test avevamo bisogno di luoghi veri dove andare a girare anche in questo caso il fattore k è stato la nostra parte con Coz questo sarà il campo della scena finale dove ci sarà la battaglia perfetto, perfetto perché non c'è niente di intorni sta zitto Coz vive letteralmente in mezzo ai lupi cioè casa sua e il terreno intorno è perfetto per una cosa del genere ma guardate qua che locations luogo trovato adesso tocca agli attori per gli eroi ho voluto metterci i volti noti nel 4p Yalaki in mezzo secondo si era prenotato per fare il guerriero è una persona standard dovete capirlo Tino è effettivamente un arciere anche nella vita di tutti i giorni quindi il ruovo toccava a lui Coz ha una fascia troppo perfetta per fare l'assassino guardate qui quanto è Hitman infine allo scotto è toccato il monaco non che ne fosse molto entusiasta purtroppo per lui non ha ragion d'essere la faccia vabbè se immazza il costumista fai delle figurucce per il barbaro abbiamo chiesto all'apo nostro amico e presidente dell'associazione medievale e soprattutto vichingo altro 2 metri e passa per oltre 120 kg di pura arroganza l'assassino vero? giusto la fanciulla è stata assegnata a Elisa che per sua sfortuna era già stata assoggettata alle nostre richieste un po' particolari e comunque io ho già cominciato ok mi fido la marmaglia dei nemici alleati del barbaro è stata interpretata dai vari membri della masnada per il master ovviamente abbiamo chiesto a Nidio nostro re del disagio comune e infine la mamma che è toccata a me ma guarda è fia quindi ci siamo messi all'opera e all'inizio dell'estate del 2021 durante gli allenamenti sono andato a disturbare per vedere di scegliere delle giuste azioni da mettere nei combattimenti tutto era pronto e messa in saccoccia la nostra poverissima attrezzatura siamo arrivati al primo giorno di riprese siamo quasi pronti ah si sta cambiando balla Martino balla fammi vedere come balli questa era la giornata iniziale ma anche la più facile di tutte a livello di girato necessario eppure è stata anche una delle più impegnative tra vestiti che non tornavano luci che cambiavano in continuazione e molta poca esperienza nel settore è stato davvero difficile completare tutto il lavoro ma in fondo ce l'abbiamo fatta ma per le prime riprese è banda io vi seguo se rifaccio questo pezzo è abbastanza libero punto sulla faccia tua e te apri gli occhi così ti rendi conto e urli più chi si per cui è questa Soprattutto con la pelle faccio l'anticidiale Chi è il lapo o la pelliccia? No, lapo no No, io non ti ho offeso Sei un coglione Un coglione del cazzo Pausa com'ero I nostri prodi eroi lottano com'erdore contro l'albero L'albero è un nemico naturale dell'uomo Ma l'uomo con la sua volontà di ferro Vincerà L'animale albero Sta per iniziare a piovere, è un casino Prima giornata delle riprese, interrotta! Fini! Affanculo Nemmeno un mese dopo siamo riusciti a ritrovarci per la seconda giornata di riprese Sono in preparazione dell'altrizzatura E' il secondo giorno Chiudo a noi a quel caso? No, non mi dai, sto facendo queste cose che non so da un tempo da fare Fai complimenti a Steven? Bravo, mi rimedi Questa sarebbe stata la più complicata in assoluto Dato che il numero di personaggi attivi era il più alto di sempre C'era da girare l'intero combattimento tra gli eroi e il gruppo di nemici Due, uno, mi chiede a fomentare, vai AAAAAAAA Non amare La lancia non è la più grande Ti ammazzo la mano Quello cuore se chiari inizio Ti fa lo santo Esatto, ti arreggi un po' a lui e così ti lascia andare delicatamente per terra Marcia, cosa ne pensi? Ovviamente durante una delle scene Koz è stato preso da una spada rotante Dritto sulla mano Ed ha rischiato di brutto Coraggiosissimo Ha deciso comunque di continuare i ripresi E portare a casa la giornata Come è andata questa giornata? Bene, ho ammazzato Uno, due, due Due ticci Poi E' arrivato il disastro L'ultima giornata di riprese L'unica In cui eravamo tutti disponibili Prima della fine dell'estate Il 22 agosto 2021 Cos'era risultato positivo al covid-19 E noi E noi Eravamo stati tutti a contatto con lui Nei giorni precedenti alle riprese Eravamo tutti in quarantena obbligatoria Abbiamo provato a trovare nuove date Per il periodo successivo Ma essendo un gruppo così numeroso È stato impossibile trovarci tutti d'accordo Rimandammo tutto Alla primavera dell'anno dopo La terza giornata di riprese È stata dedicata totalmente Al combattimento finale Tra gli eroi e il barbaro Ho ripreso tutto E le scene post-credit Devo dire che Probabilmente È stata la migliore A livello di ignoranza e cattiveria Nel girare le varie scene È successo un piccolo genere Per questo E meno male E alla fine Elementi scenici sbalorditivi Fa vedere Fa vedere Successivamente Il periodo estivo e autunnale del 2022 Non è stato dei più semplici per noi Il cambiamento di A4+, E l'apertura del Capibara Project Ci ha portato via Veramente Tanto tempo ed energia Così tanto Che siamo stati costretti A mettere in pausa Il progetto del corto Fino all'inizio Dell'anno successivo L'ultimissima giornata di riprese La più semplice per fortuna Ma in cui ci siamo decisi A non voler girare solo questo corto Ma anche delle scene dell'intro Del video della fine Di A4+. Solo dire grazie a tutti Per averci venuto qui qua Poi ti ha la pace Così si vede anche poi Stop Sei un tento? No Devi correre in su Devi partire da laggiù Dietro l'angolo Non ho visto niente Non sono riso Perché fare cose semplici Quando puoi complicarle A non finire A questo punto Abbiamo finito le riprese Ci siamo dedicate al montaggio Che è risultato essere Molto più difficile Di quanto c'eravamo aspettati Soprattutto perché siamo Dei grandissimi incapaci A parte gli scherzi Siamo davvero contenti Di come è venuto il risultato finale E nonostante gli sforzi Siano stati davvero infiniti Per la creazione del tutto Io Come tutti gli altri componenti Del Kavivara Project Siamo davvero fieri Della nostra piccola creazione Grazie per essere arrivati A questo punto del video Condividetelo Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace E commentate condividendoci La vostra idea Per un prossimo short movie Grazie Grazie Grazie